Con la firma in regione delle convenzioni inizia il percorso di completamento della rete regionale del riciclo, sfruttando i circa 7 milioni di euro di investimento complessivo, 4,8 regionali e 2,2 comunali. I fondi serviranno a realizzare 29 centri di raccolta in 27 comuni delle quattro province abruzzesi. La rete regionale del riciclo al completo si presenterà quindi con 9 centri del riuso, 11 piattaforme ecologiche e 29 centri di raccolta per un investimento complessivo di 12,5 milioni di euro. Siamo a fine legislatura, vogliamo tracciare anche un bilancio di quello che è stato il percorso nei rifiuti della regione Abruzzo? Intanto noi siamo partiti da delle situazioni che attendevano delle risposte da tempo, abbiamo realizzato qualcosa come 6 procedure di infrazione, ne stiamo uscendo non senza una certa difficoltà ma dopo aveva investito per esempio oltre 40 milioni di euro sulle bonifiche dei siti inquinati non l'aveva fatto mai nessuno, dopo aveva investito più di 100 milioni di euro in tempi immediati sul tema della depurazione. Adesso vediamo come il nostro mare è pressoché interamente balneabile. Nel 2014, il primo agosto, io ricordo quando arrivarono i dati allarmanti della situazione della beneabilità del nostro mare incise in maniera non indifferente sul ritorno mediatico e soprattutto poi sulla promozione turistica del nostro territorio. Un lavoro lungo che ci resta ancora da fare e in questi ultimi mesi che ci restano noi comunque avremo modo di mettere in atto ulteriori realizzazioni.